benvenuti su radio news 24 io sono Alberto De Benedetti e questa è on air intervista e racconti da tutta Italia sono in Romania Gambettola e con me c'è William Bisacchi benvenuto William buongiorno a tutti gli ascoltatori è un piacereverti qui parliamo di serramenti e design e della storia di un'azienda che aveva avanti dal 1973 se non se non sbaglio ci racconti un po appunto esattamente grazie Alberto esattamente l'azienda è nata in 2003 a dire il vero è nata anche un po' di anni prima quando mio zio ha aperto l'azienda da solo poi dopo qualche anno insieme a mio babbo i due fratelli hanno fondato l'azienda che c'è tuttora esistente dal 1973 quindi su quasi 50 anni dei quali anche io personalmente anche se alcuni mi dicono che sono giovane sono già 33 anni che sono qui all'interno perché sono cresciuto come si dice in Romagna pane e finestre a pane finestre bellissima si infisse porte finestre persiani ferriati cancelletti insomma voi siete da 45 anni e c'è uno showroom a Gambettola no? si abbiamo uno showroom e una produzione a Gambettola che è la nostra sede principale dove noi andiamo a servire poi tutte le province qui adiacere la Romagna ma per lavori importanti ci spostiamo anche fuori regione quindi abbiamo lavorato in Lombardia ora abbiamo tre cantiere Milano all'isola d'Elba in Sicilia un caso diciamo dei più lontani dalla nostra ubicazione e siamo un'azienda che ci occupiamo come detto giustamente di infissi di porte di ringhiere nell'ambito dell'edilizia privata quindi abitazioni singole ville tutto quello che è diciamo così la massima qualità possibile quelli che hanno l'esigenza di avere quel qualcosa in più quelli fisso di design quell'accuratezza sul montaggio e quell'assistenza che magari le comuni rivendite non possono offrire ecco proprio questa è forse è una differenza fondamentale nel senso che seguite accompagnate noi clienti nel tempo con un'assistenza appropriata e poi c'è la questione del design non ho quella questione di fare anche cose originali speciali no diverse anche fuori dal comune uno dei nostri punti forti appunto le realizzazioni speciali che riusciamo a fare grazie all'arteggionalità che abbiamo internamente infatti noi gli fissi non li vendiamo ma li produciamo e da dicembre di quest'anno addirittura li produciamo con macchinari digitalizzati che fanno parte della colletta industria 4.0 quindi macchinario si connetta internet e se ha un problema si connetta c'è l'assistenza e c'è uno dei pesti di ricambio o dell'olio lubrificante lo ordina direttamente il macchinario stesso e questo ci consente questi macchinari talmente precisi di avere un'elevata accuratezza delle lavorazioni poi che viene messa insieme anche dagli artigiani che lavorano noi siamo circa 25 persone e ci vuole sia la tecnologia che la manualità per fare le cose su misura altrimenti sarebbe troppo industrializzata e poco personalizzabile la produzione che invece è quello che vogliamo dare con il sistema visati che il nostro metodo di lavoro è qualcosa che non puoi trovare nel negozio che c'è in tutti i paesi in tutte le città e parlando del discorso della continuità dell'assistenza noi abbiamo molto su questo servizio e abbiamo tantissimi testimoni che dicono che la facciamo perché abbiamo più di 200 decisioni con nome e cognome positive con 5 stelle ma abbiamo un servizio addirittura che si va a Bicare ecco c'è ho avuto qualche problema di audio scusa se ti interrompo William ha avuto qualche problema audio per cui è andata un attimino via l'audio quindi se puoi ripetere dicevi addirittura fornite assistenza Ikea ho capito bene sì esatto addirittura forniamo oltre un'assistenza normale e gratuita nel primo periodo di garanzia e poi un'assistenza comunque anche prodotti che non abbiamo fatto noi abbiamo un'assistenza che si chiama Bicare che è una manutenzione annuale che viene fatta per mantenere tutti gli infissi acquistati al massimo delle prestazioni e in sicurezza perché andiamo a controllare le ora andiamo a controllare i fissaggi le guarnizioni e questo qui consente di avere veramente le massime prestazioni che durano nel tempo è un servizio che nel mondo degli infissi è veramente nuovo scusa se ti ho interrotto un problema di ricezione allora magari mi accavallo alla tua voce però volevo dire due cose agli ascoltatori uno che se andate su per esempio Bisacchi 1970 su Facebook troverete che ci sono offerte addirittura di lavoro quindi un'azienda che offre lavoro e questa è già una testimonianza e attività della competenza e anche direi la passione e all'amore per questo lavoro William ha anche scritto un libro giusto? giusto sei molto informato Alberto mi hai fatto piacere che hai ricordato il discorso che stiamo cercando un po' del personale perché cresciamo sempre e ho scritto questo libro perché essendo molto conosciuti a livello nazionale e non possiamo arrivare dappertutti attraverso questo libro rende la scelta dei seramenti facile anche chi è lontano da noi possiamo aiutare indirettamente a non sbagliare la scelta dell'infisso del vetro della cosa in opera dei ponti termici di tutti quegli aspetti che sono legati al mondo degli infissi che è comunque abbastanza complesso soprattutto perché non è detto ai lavori ecco si chiama scegliere gli infissi è facile col sistema Bisacchi si trova su Amazon tra l'altro questo libro è una specie di manuale per potersi orientare in questo mondo dove magari è anche abbastanza facile come dire prendere il cosiddetto pacco quello che si dice che poi alla fine uno rimane dell'uso quindi la competenza e la conoscenza e nella storia aiuto a fare la giusta scelta e nel passato ci sono stati casi di pacchi anche importanti tra l'altro io ho anche un blog dove scrivo molto letto a livello nazionale il primo blog che parla di infissi a livello nazionale dove ho scritto degli articoli di casi che sono stati anche in televisione magari di persone che sono state truffate nell'acquisto degli infissi quindi è molto importante purtroppo ho perso ancora un attimo l'audio ecco perfetto ecco dicevi sì purtroppo ho perso l'audio ma sta dicendo è molto importante ecco è molto importante fare una scelta corretta dei seramenti perché se scelti bene è una scelta che si fa una o due volte nella vita quindi questo libro ti aiuta nella scelta e in più da quest'anno abbiamo iniziato anche un servizio di consulenza che possiamo fare a livello nazionale in questo momento sto dedicando quattro ore del mio tempo alla settimana a questa consulenza in modo che quelli che sono lontani che anche con il libro magari hanno un caso talmente specifico che non riescono a inquadrare vogliono dei consigli proprio sulla loro pelle attraverso un'ora o due ore di tempo possiamo aiutarli a non sbagliare la scelta degli infissi allora su Instagram e su Facebook Bisacchi 1973 William se ci lasci anche poi l'indirizzo del blog dove appunto tratti questo argomento o qualche altro contatto lo giriamo volentieri gli ascoltatori i contatti quelli che sono molto molto seguiti sono il blog che abbiamo circa 70.000 abitazioni in Nesili e YouTube dove sono praticamente ovunque nel mondo delle finestre che ci guardano circa 100.000 persone ogni mese anche lì su YouTube quindi sono risorse gratuite a disposizione di tutti aiuterò anche se non si acquistano gli infissi da Bisacchi a non sbagliare le scelte che sono molto molto importanti Beh complimenti davvero per tutto William è stato davvero un piacere verti qui invito gli ascoltatori allora a seguirti perché in qualche maniera sei un aiuto anche a distanza mi pare proprio in tutto il territorio nazionale un abbraccio da parte della redazione della radio Grazie Alberto e un saluto a tutti gli ascoltatori a presto Amici di On Air restate con noi per altre storie altri racconti altre interviste Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.